Stimati rappresentanti dei ministeri italiani e armeni, cari dirigenti, colleghe e colleghe della European University of Armenia, la società Dante Alighieri ha un ruolo importante nel promuovere la lingua e la cultura italiana nel mondo. Siamo orgogliosi che OERAC Research abbia contribuito a creare le basi per l'apertura di un nuovo centro a Yelvan. L'attività di questo centro rafforza la collaborazione tra i nostri due paesi e permetterà occasioni di scambio e dialogo molto importanti. OERAC Research è tra i fondatori dell'European University of Armenia. In questi anni il rapporto tra l'università e il nostro centro di ricerca si è sempre più consolidato con l'obiettivo di favorire la cooperazione e il confronto in ambito accademico. L'apertura di un centro della società Dante Alighieri va in questa direzione e amplia ancora di più le opportunità di formazione specialistica per studenti e docenti. Congratulazioni e auguri! Grazie!